Lo dico per i detrattori di sindacalizzazione eccessiva nella scuola e quindi il merito, tutto questo discorso. Io credo che con i sindacati, specialmente quelli della scuola, io ne ho un ricordo di una convivenza e anche di un coinvolgimento, perché poi anche loro stessi sono docenti. Sì, certo. E diciamoci la verità, il dramma è che noi abbiamo una scuola in cui in quel milione ci sono tanti precari, che ne parliamo con disprezzo, come quelli che hanno superato la fila, come quelli che sono arrivati senza merito e ci dimentichiamo spesso, troppo e volentieri, che sono quelli che hanno mandato avanti la scuola italiana da dieci anni e hanno educato e formato i nostri figli. La sindacalizzazione è lo scontro sul precariato, inteso come diritto-dovere, cioè se c'è il precario nella scuola, la colpa non è del precario, è che noi abbiamo fatto una serie di leggi che hanno creato la scuola come sistema precarizzante. Sì, è molto lontano questa questione. Se non ce la teniamo in pubblicità, Annalisa vuoi dire qualcosa su questo?